Ciao, sono Westy! Anche noi cucciolotti con l'arrivo del caldo dobbiamo stare più attenti e limitare un po' le nostre attività. Ecco quindi qualche consiglio per vivere in sicurezza l'estate con i vostri amici a quattro zappe. Evitate le passeggiate nelle ore più calde, l'asfalto con il sole si arroventa e potremmo scottarci le zappette. Quando ci portate fuori non dimenticate una bottiglietta d'acqua per farci bere e attenzione alle scottature solari. Anche noi abbiamo la pelle sensibile, in particolare i cani con il pelo bianco. Metteteci una protezione solare in prossimità del tartufo sulle orecchie e sulla coda. Assicuratevi di lasciarci sempre acqua fresca a disposizione, un luogo ombreggiato e ventilato dove poter riposare. Scegliete per noi dei cibi leggeri e facili da digerire e lavate sempre la nostra ciotola dopo che abbiamo mangiato. E soprattutto ricordate, non lasciateci mai per nessun motivo in macchina, neanche per breve tempo. La temperatura all'interno dell'abitacolo sale rapidamente, anche con i finestrini aperti e può raggiungere i 70 gradi. Mi raccomando, ne va della nostra vita. Buona estate a tutti!